E' più facile di quello che credi. Ciao e benvenuti su Miss Biancoala, il canale d'illuminazione che ti insegna a applicare le gettrazioni in maniera corretta e efficace nella tua vita. Io sono Miss Biancoala e sono anche su Instagram e su Facebook, trovi i link di riferimento qui sotto al box informazione oppure scrollando fra i commenti. Sono due canali al supporto di questo qui di YouTube, così come al supporto di il canale YouTube anche il blog di Miss Biancoala, trovi qui sotto sempre tutti quanti i link che ti servono, dove pubblico decine di articoli sempre legati alla legge attrazione in un solo. Inoltre attivo un servizio di consulenza, adesso a un prezzo anche scontato, dove ti prendo per mano e ti guido nella manifestazione, nella realizzazione di qualsiasi cosa desideri. cosa, persona, evento, circostanza. Provami, come hanno fatto già decine di persone con successo. E oggi di cosa andremo a parlare? Allora, oggi in questo piccolo video ho pensato di farlo per rispondere a molti di voi che mi scrivono e mi dicono, eh vabbè però, ci sono le giornate, come faccio, che mi sembra che non mi ripesto niente, non sta succedendo niente, quindi scivolo ancora giù nel bar, trova, vi capisco ragazzi, anch'io ero così, nella serie, le giornate del... sono un incapace, così, capito, non riesco a manifestare niente, è capito, così. Ma, oh, sono arrivata a una realizzazione che è praticamente la scoperta e l'acqua calda, come ti dico, la scoperta e l'acqua calda è la legge attrazione. Quando avete queste giornate in cui vi sembra che praticamente c'è niente di quello che fate, che provate a applicare, che vi fate i balletti e sessioni di cosa, di yoga, di meditazione, ripetete frasi, scrivete, pregate, visualizzate e così via, invocate qualsiasi persona nell'etere possibile, immaginabile, così. e niente, ecco che uno ovviamente spropone nel... c'è qualcosa che non va in me, non sono capace, gli altri riescono io, no? La legge attrazione non funziona, maledizione, capito? Andate su questa cosa e quindi poi finisce sempre che attirate, cioè andate a creare ancora più energia negativa, di resistenza, di impossibilità, tristezza, frustrazione, vengono signori, vengono signori e così via, insomma, aggiungete questa roba. Quello che io applico su me stessa è innanzitutto, se c'ho il momento di... Cioè, quello è sfogo, ragazzi, sfogatemi. Sì, cioè io spesso e volentieri alzo i pugni, così, capito? Me lo prendo con me stesso, del Dio, cioè con l'universo, cioè, raga, non capite che cosa posso creare? Prendo a pugni il coso, prendo a pugni il cuscino per cercare di sfogare, oppure piango, così, cioè, dico le peggio cose. Però finita sta buriana, finita sto momento, che può anche durare tutta una giornata, cioè, mi butto in un lato e provo la serie, non guardatemi, non cercatemi, così. Finito questo, perché non vuol dire che uno è un coach, un maestro, non c'hai giornate che è da serie, perché più vai avanti, più ovviamente diventano ancora più grandi le cose, diciamo, che intendi manifestare, più, cioè, è come un salire sempre di più la scala, è come per un, per un, per uno sportivo, cioè, una volta che, ehi, sono salito sul podio, ecco, ecco, ho vinto, ecco, si prepara, già sta pensando con la mente a, ecco, devo battere questo record, quindi alla prossima volta devo battere questo record e quindi ritrovarmi sul podio, per ritrovarmi sul podio devo appunto battere questo record, così via, insomma, è sempre un ciò da fa, devo da fa, devo da salire, devo da battere un altro record e così via. Quindi quello che io faccio è, passato appunto il momento del, io lo chiamo il, insomma, passato il momento, cioè che io chiamo il momento del poor me, paura me, così, ecco che, mi chiedono e dico ok Giada, però, eccoci qua, no? Mi pare che siamo qui, su questo pianeta, incarnatevi, e anche che qui sta facendo una sceneggiata, così, eccoci, che veramente i migliori film di Dario Argento, ti sta facendo tutti i film più possibili e immaginabili su perché, eccoci, però sei ancora qui, stai respirando, sei su questa terra, tutto quanto e quindi stai manifestando la tua realtà, non la stai manifestando come ti piace, ma la stai comunque manifestando, ecco, tenete a mente questo, fermatevi un atto e dire, ok, non la sto manifestando come intendo manifestarla, ma io la sto comunque manifestando, quindi sono una manifestatrice, quindi sono una creatrice, sono una dea creatrice, o un dio creatore, come vi volete chiamare, insomma, io sono, sto creando comunque, cioè perché sono qui, sto creando, io esisto, sto creando, cioè sto creando, sto creando la mia, e l'ho creata, quindi per aiutarmi a ritornare nella vibrazione giusta, comincio a riflettere, a meditare, a riflettere su questo, a dirmi, ok, va bene, a sto momento ancora non ho manifestato quello che volevo, vabbè, però ho manifestato tante altre cose, ci sarà qualcosa nel passato che vi viene in mente, un momento che è stato tipo, yeah, anche che magari ancora all'epoca non sapevate niente a leggiatrazione, ma spesso uno va a fare la revisione, poi quando apprende a leggiatrazione dice, ah vabbè, però adesso che vedo alcune cose nella mia vita si sono allineate, perché appunto io mi ero messo lì a desiderarle, così via, ancora non sapevo leggiatrazione, ma apprende stavo già, già, la stavo già applicando, perché l'applicate da sempre, fa parte della base dell'esistenza, la base dell'universo della leggiatrazione, quindi l'applicate sempre, che voi conoscete la leggiatrazione, non la conoscete, la state comunque applicando, è favoloso questo ragazzo, che comunque sia una cosa, nonostante tutto, che magari la conosce o non la conosce, la sta comunque applicando, la sta sempre, 24h, 7 giorni su 7, 365 giorni nell'anno, quindi quello per uscire fuori dal momento di... mi dico, no Giada stai comunque creando, cioè sei una creatrice, stai creando, o non stai creando quello che desideri tu, o non stai creando in una maniera come desideri tu, però comunque sia hai le abilità, io mi faccio... o come, mi dico io, la metafora che mi faccio, l'esempio che mi faccio è, Giada, se sai fare shopping da H&M, sai fare shopping anche da Dior, cosa vuol dire, aspettate che si stava un attimo, ok, cosa vuol dire, nel senso che, stanno partiti tutti all'armi, stanno partendo, ok, nel senso che, se, cioè, la esperienza è sempre la stessa, cioè entri nel negozio, vedi una cosa che ti piace, che sia H&M o Dior, quindi, che sia un negozio normale, cioè normale di lusso, entri, dici al commesso quello che hai visto, te la provi, tutto quanto, e poi dopo, se ti piace va la cassa, è sempre più o meno lo stesso sistema, può variare l'esperienza che provi dentro, magari, che ne so, la tipologia di cose che vendono, l'arretamento del negozio, come vieni servito, il modo come vieni servito, e così via, però è sempre la stessa cosa, cioè sempre comunque sia, devi entrare, chiede, poi provi la cosa, guardi, bella, e se ti piace paghi la cassa, cioè non è che il Dior, che ne so, se inventa in un altro modo, cioè, che non paghi, esci senza pagare, per dire, oppure hanno un pagamento via, da telepata, via, cosa, cioè, no, assolutamente, è sempre la stessa cosa, quindi può variare, diciamo, nel, qualche particolare, appunto, come vi ho detto, arretamento, e la proposta di cose che vendono, e così via, però, poi, ah, fin fine, cioè, è sempre la stessa cosa, entro, guardo, scelgo, e vado alla cassa, punto, cioè, che in busta è una roba e tanti saluti, quindi, se sai manifestare una cosa positiva, sai manifestare anche una cosa negativa, è la stessa cosa, è l'incontrario, ragazzi, quindi, se sai manifestare, in questo momento l'assenza, tu sei capace anche a manifestare la presenza, l'importante, la base di tutto, che mi ricordo, è che comunque sia assenza o presenza, io so manifestare, che io manifesto l'assenza, o manifesto la presenza, io comunque so manifestare, mi ricordo questo, io comunque sono una manifestatrice, comunque sono una creatrice, o me li volete chiamare voi, ragazzi, una dea, a me piace chiamarvi dea, oddio, dea, i creatori, cioè, siete dei creatori, quindi, che ci crediate, creatori, crediate, o no, vostro problema, state comunque sempre creando, quindi, se avete il momento che dite, per ritornare subito nel, rimbalzare subito nell'energia, bom, 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 l'energia allineata, positiva, è meglio, ricordate, provate a ricordarvi questo, perché provate a dirvi, ok, dopo che avete avuto i vostri 5 minuti, 10 minuti, in ora, in giorno, volete dire, ok, però, comunque sia, io, a prescindere che ho manifestato o non ho manifestato, rimango comunque sia, creatrice, nessuno mi può togliere questo titolo, nessuno mi può togliere questo titolo, perché è mio di diritto divino, è mio perché io sono, è mio perché io sono questo, io sono questo, io sono il dio o la dea che dice, io sono il creatore della mia realtà, del mio universo, io sono il creatore della mia realtà, del mio universo, affermate questo, affermatelo per 3 volte, 5 volte, 7, 10, affermatelo sentendolo, mettetevi la mano qua, sul coso, mettetevi la mano sul cuore e sentite, affermate questo, sentendolo, questo è un ottimo metodo, molto veloce per ritornare subito, per imbalzare subito indietro nell'energia, voi state sempre creando, non c'è un momento in vostra vita che non create, e se in questo momento avete trovato, siete inciampati, avete trovato un blocco, avete trovato una resistenza, è soltanto lì a prenderla a vostro favore, a ricordarvi, a segnalarvi, che c'è qualcosa su cui dovete lavorare, non avete ancora manifestato, forse ci sono dei credo che vanno rivisti, forse non state credendo come cosa già fatta, già accaduta, forse non siete allineati in maniera perfetta a ciò che volete, quindi si tratta soltanto di un piccolo momento, sta lì ad indicare che dovete correggere qualche cosa, dovete analizzare qualche cosa, ma comunque nessuno, nessuno mai vi può togliere il titolo di creatore, nessuno mai vi può togliere quel potere, nessuno mai, è anche che in questo momento non state manifestando, ma state manifestando, state guardando questo video, avete manifestato questo video, avete manifestato l'ossigeno che state respirando, avete manifestato la sedia su cui state sedendo, avete manifestato il film che avete visto magari un'ora fa, avete manifestato il cibo che avete mangiato magari due ore fa, avete manifestato il vostro fidanzato, avete manifestato i vostri genitori, avete manifestato il corso di laurea che state seguendo, avete manifestato il vestito che state portando, ogni esperienza, cosa, persona, l'avete manifestata, l'avete chiamata a voi, l'avete desiderata, l'avete voluta, l'avete creata, sempre e soltanto perché l'avete deciso voi, voi, mie creature magnifiche, siete voi che l'avete deciso, quindi su, forza, rimontate a cavallo e ricordatevi che sia quello che siete e se per un momento non avete manifestato, voi manifesterete, prendetelo come un punto, non l'ho manifestato ma è sempre una manifestazione che mi sta ad indicare appunto che non l'ho manifestato perché non sono allineato, allineata, c'è qualche cosa che devo rivedere, ma comunque comunque era una manifestazione, non manifestazione, ma comunque era una manifestazione, che stiamo al senso, presenza è sempre una manifestazione, dovete capire questo, è sempre una manifestazione, non vuol dire che se non avete manifestato allora l'alleggetazione funziona, allora non siete capace a manifestare, allora è nulla, nulla è nulla, nulla è nulla, neanche un bicchiere vuoto, è vuoto, se ci pensate bene, dentro è contenuto l'ossigeno, quindi tutto questo che noi chiamiamo vuoto, non è vuoto, è riempito di energia, è riempito di un'essenza che possiamo chiamare un'essenza divina, l'essenza universale, tutto è in tessuto, il vuoto è in tessuto di energia, il vuoto è in tessuto di energia, quindi anche quando dite nulla in realtà state dicendo tutto, poiché l'universo è il nulla, ossia il tutto, non provate ad etichettarlo, non provate a cercare di comprenderlo e dargli un'etichettatura, dargli una dimensione sola, l'universo non è questo, è tutto e niente, ricordatevelo sempre, e voi siete uguali, voi siete tutto e niente, tutto e nulla, voi siete capaci così potenti di poter manifestare e decidere di non manifestare, perché decidete sempre voi, attraverso i vostri segreti, sempre voi, lo scettro in mano, lo stringete sempre voi, anche quando sembra che lo stringa qualcun altro, tutto è un gioco, come diceva Gesù, tutto è una magica illusione, e svegliatevi, pace, amore, armonia, un pallecenso che mi fa un sacco di piacere e anche una forma di gratitudine nei miei confronti, ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, perché come vedete dispensa un sacco di sapere, illuminato.